Buon lunedì 25 aprile, gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Iniziamo subito con la cronaca. In seguito ad una pregressa attività volta al contrasto dello spazio di sostanze stupefacenti che portava l'arresto di un soggetto italiano di 61 anni, venivano trovate durante la perquisizione numerose carte poste pay intestate a diversi soggetti residenti a Novara. Le successive attività di indagine permettevano di identificare tre soggetti di 35, 43 e 63 anni, tutti italiani e residenti in questo capoluogo, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infatti dagli accertamenti svolti è stato appurato che tre soggetti identificati erano intestatari delle carte ritrovate e nelle stesse carte veniva accreditato il reddito di cittadinanza di cui erano beneficiari. Nello specifico, i suddetti, sebbene usufruissero di un sussidio volto alle persone più bisognose e disoccupate, utilizzavano il reddito percepito per acquistare la droga. Gli stessi, pur di assicurarsi la loro dose, consegnavano allo spacciatore le carte prepagate con relativo codice su cui veniva accreditato il loro reddito di cittadinanza. In tal modo, quest'ultimo spacciatore, in possesso delle carte prepagate e ricaricate mensilmente, poteva autonomamente attingere le somme di denaro e quindi garantirsi il pagamento delle cessioni di cocaina attraverso prelievi o altri acquisti. Ed ora cambiamo argomento, vediamo le previsioni occupazionali nelle province di Quadrante. Sono 5.480 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, VCO e Vercelli per il mese di aprile 2022, poco più del 23% delle entrate previste a livello regionale. Nel complesso, le previsioni occupazionali sono 1.080 in più rispetto al mese di aprile 2021, un dato influenzato soprattutto dalla domanda del VCO e del Novarese, mentre Vercelli e Biella, al contrario, segnano una diminuzione delle entrate programmate. Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono la quota limitata di imprese che esprimono un fabbisogno occupazionale, l'alta percentuale comunque superiore al 70% di contratti a termine e la richiesta di esperienza professionale specifica o nello stesso settore che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro. Fermere stando alle diverse vocazioni economiche dei territori, in linea generale, sono i settori dei servizi alle persone, del commercio, del turismo e ristorazione a esprimere una parte consistente dei fabbisogni occupazionali nelle quattro province del quadrante. Queste sono solo alcune delle indicazioni che emergono dal bollettino monside del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere e Ampal. Fondazione Valsese ha avviato un progetto con Confindustria Novara-Vercelli-Valsese rivolto alle scuole. Sentiamo. Nuovo crowdfunding di Fondazione Valsese insieme a Confindustria-Vercelli-Novara e Valsese per potenziare i laboratori delle scuole del territorio. Sì, in realtà è un fondo aperto da Confindustria per sei diversi progetti, che riguardano soprattutto in questo momento le scuole tecniche, che però ha intenzione di estendersi a tutte le scuole. Questa collaborazione con Confindustria è fondamentale, proprio perché questo ci permette di aiutare anche tutta la parte educativa. Quindi noi ringraziamo tantissimo Confindustria per questo impegno, che servirà a implementare e rinnovare i corsi di formazione Tenga con attrezzature nuove e anche con una formazione nuova sia per gli insegnanti che per i ragazzi. C'è un obiettivo da raggiungere a livello economico? Sono sei diversi obiettivi, perché diciamo che ogni progetto va dai 170 mila euro ai 20 mila, a seconda dell'impegno che si chiede e del tipo di attrezzatura che si acquistano. Però è un impegno insomma complessivamente importante. La separazione è fallimento, dolore e disagio. L'associazione Papà Separati viene in aiuto. La terza area organizziamo incontri di auto mutuo aiuto, gruppi di 5 o 7 persone con l'assistenza di psicologi e di esperti allo scopo di sostenere quei genitori che si trovano in difficoltà nella gestione emotiva e psicologica della separazione e delle sue conseguenze, ad esempio la gestione dei figli. Questa attività si avvale anche di un laboratorio di psicoteatro, a volte è molto divertente. I genitori si rivolgono solitamente all'associazione Papà e Mamma Separati per un supporto e un aiuto nelle questioni legali e formali. Emerge però sempre più spesso anche un bisogno più profondo, quello di trovare nuove sicurezze e aiuto anche dal punto di vista morale e psicologico. Quarta area, formiamo da diversi anni un servizio di mediazione familiare. Questo servizio vuole essere un accompagnamento realizzato con l'ausilio di professionisti qualificati per quei genitori che si rendono conto che è sempre possibile trovare una soluzione serena proprio nell'interesse ai figli. Quinta area è un altro servizio importante, psicologia giuridica, sempre più utilizzato e necessario se non addirittura l'unico strumento per definire oggi un profilo sulle relazioni intrafamiliari, dove il Tribunale nomina la CTU. Noi consigliamo la gestione con un consulente di parte. Le casistiche più frequenti, ad esempio, sono a seguito della separazione dei genitori, dove viene limitato il diritto dei figli a frequentare il genitore escluso, oppure addirittura con la sottrazione dei figli ad entrambi i genitori, se si ritiene che non siano genitori responsabili. La sesta area, ultima, da tempo siamo solidali tra associazioni con la creazione di reti che si occupano di minori, perché pensiamo sia fondamentale l'azione di condivisione e di crescita del volontariato, nel campo specifico a tutela della famiglia. Successo per l'ATL alla Borsa Internazionale del Turismo Nei giorni scorsi l'ATL rappresenta la Borsa Internazionale del Turismo con un suo desk presso gli spazi della regione. Un'occasione importante per la promozione del Nuova Resi in Lombardia e nel resto d'Italia, da sempre vetrina privilegiata dove proporre iniziative, itinerari ed offerta turistica. La Borsa Internazionale del Turismo ha aperto a circa 70.000 visitatori e 2.000 espositori. Si sono tenuti incontri B2B con operatori turistici sia italiani sia stranieri, appartenenti ai mercati europei di maggior interesse per il nostro territorio, quali Svizzera, Germania, Francia, Olanda, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. E poi è stata anche l'occasione di incontrare giornalisti e blogger per promuovere il Nuova Resi attraverso i canali comunicativi tradizionali e i social. Alla Bitt è stato proposto il panorama completo dell'offerta novarese che va dall'enogastronomia alle iniziative culturali. I percorsi poi da fare in bicicletta o a piedi, venendo incontro insomma alle esigenze più attuali del turista per offrire una vera e propria esperienza di viaggio su misure. Ed ora scoprite la nuova app sui Sacrimonti. Si chiama App Assionarsi ai Sacrimonti, la nuova guida audio e video dei Sacrimonti studiata per accompagnare i turisti nella visita dei siti UNESCO che uniscono Barallo, Crea, Orta, Varese, Europa, Ossuccio, Giffa, Domodossola e Belmonte a cavallo tra Piemonte e Lombardia. L'app è stata presentata nei giorni scorsi alla Fiera del Turismo di Milano. Il formato digitale dei Sacrimonti è costruito con itinerari, mappe grafiche o geografiche che grazie alla realtà aumentata consentono di entrare all'interno delle cappelle dove sono conservati spettacolari scene scultore e pittoriche. L'applicazione per smartphone e tablet è in cinque lingue, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e consente anche di divertirsi con giochi e quiz pensati per le famiglie. Ogni Sacrimonti infatti offre percorsi tradizionali che seguono l'itinerario scandito dalle cappelle animate da capolvori scultori e pittorici firmati dai più grandi artisti dal Rinascimento al Barocco, dal Rococò al Neoclassicismo di Lombardia e Piemonte, ma anche percorsi tematici e ludici utilizzabili dei giovani per scoprire i Sacrimonti in modo interattivo e divertente. L'app consentirà inoltre nel rispetto della privacy di fornire date aggiornati sulla fruizione del sistema dei nuovi Sacrimonti UNESCO, favorendo l'ottimizzazione delle azioni rivolte al miglioramento dell'accoglienza dei visitatori e del conseguente sviluppo turistico ed economico dei territori locali. Vivere la montagna è la novità tutta nuvarese. Per presentare Vivere la montagna, il nuovo gioco da tavolo dedicato a Chiama alla Natura, le passeggiate e i percorsi ad alta quota, sono stati coinvolti 10 rifugi in tutta Italia e diversi gruppi di trekking da pochi giorni. È quindi possibile provare il gioco nei rifugi proprio là dove è stato ideato. Il gioco si trova anche nei negozi e sul sito dell'editore De Moela di Genova. Per questo suo quarto gioco, il giornalista novarese Roberto Conti ha coinvolto Luca Ramilli, curatore dei seguitissimi social Vivere la montagna. Ci siamo conosciuti per caso in un rifugio sulle Orobie, anche se siamo entrambi di Novara, in città, non c'eravamo mai incontrati e in poco tempo dalla passione comune per la montagna è nata l'idea per questo gioco che è subito piaciuta all'editore. Vivere la montagna è un gioco di carte avvincente, si gioca da 2 a 6 persone dagli 8 anni in su e una partita dura mediamente dai 30 ai 45 minuti. Solo uno degli esploratori riuscirà a superare tutti gli ostacoli e a rimanere in gioco fino alla fine. Raggiungere le vette più impegnative, dalle Dolomiti all'Enna, visitare i parchi naturali, osservare piante o animali tipici e arricchire la propria attrezzatura non è mai stato così divertente. Le 110 carte sono state illustrate da Emanuele Racca e Simone Rigio e di questo ed altri giochi parleremo prossimamente nell'argomento della settimana. E ai nostri microfoni, Paola Piola, figlia dell'indimenticato campione Silvio che ha parlato della sua collaborazione con Laticina Calcio Novara for Special. Sentiamo. La mia vicinanza a Laticina c'è da moltissimi anni ed è veramente un vanto e un onore. Quando abbiamo fondato l'archivio Silvio Piola c'è una parte di lavoro che era quella della memoria, biografica, le radici dello sport attraverso un po' anche la ricostruzione della vita del mio papà ma l'altra parte è proprio quella dedicata alla prevenzione quindi lo sport come risorsa e assolutamente lo sport come risorsa per tutti. Quindi il lavoro con Laticina è stato un lungo lavoro penso che sia un esempio fantastico adesso possa offrire veramente delle linee guida per questo bellissimo progetto che è quello del calcio per i soggetti disabili. teniamo presente che nelle ultime statistiche il 15% della popolazione mondiale ha una disabilità per cui il cominciare ad affrontare molto seriamente, radicalmente la possibilità di offrire le risorse proprio alle categorie più fragili è fondamentale. Laticina ha precorso con mille fatiche e anche la federazione gioco calcio ovviamente ha dato adesso un impulso incredibile perché è l'unica federazione proprio che ha già delle categorie all'interno proprio per questo settore. Allora anche quest'idea un po' di adottare una squadra che è stata la partenza perché Laticina ha giocato il primo campionato con la maglia della Lazio quando le grandi società hanno in qualche modo adottato delle squadre anche per promuovere questo settore. Adesso questo si sta continuando, si sta sviluppando ma ovviamente l'obiettivo è quello che il territorio sia propri dei suoi giovani calciatori giovani e grandi calciatori con disabilità. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.